è l'unica 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 da prontà perché quando sono una faccia 11 si fanno fare gli esercizi passaggi io lo so però l'allenamento è specifico in coppia i passaggi in coppia i codi rispetto alle altre che non è cominciato di quanto senza un allenamento specifico delle basi fai a fianco fai a fianco dai lo sei vai già vai già fai a fianco fai a fianco ciao cazzefa o la casa di due vai maria, vai maria, vai maria bravissima brava maria buona città, un secondo pal ma città, un positivo oh no, no, chiusi fai un po' fai un muo l'ha un po' il più giro non sei che non sape che la lunga adesso diventa ma non deve calare dove vai il titolo la scuola un po' e hanno tutti augurato il migliore dei beni amm ben di un cavolo sapete che vuoi un po' di pelle non devo fare ahahah oh ma c'è una cava qui ehm ma io mi pensi a queste cose che ho fatto ah ma dominante ma dominante mamma vero è ma calato perciò hai fatto ricollo infatti perciò mi è ah ma dominante però alla fine mi è ma calato praticamente come sta come sta tutto è chiusato come sta tutto è chiusato se vuole muro c'è una caccia c'è una scherza c'è una scherza vai alla pista hai ragione Matteo la tua teoria è stata quella che non è una scherza a fine bene done bene teoria brava ste appoggio appoggio l'acqua per incontro guarda per farlo avanza un po' alzare 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 un po' la città un po' la prossima è la tengo in casa di nuovo ok se finisci fuori inizio avremo iniziato in casa ah no no si si la tengo in casa ehi oh 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 sali 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 col favore che sei che sei io te metti il dato oh ciao 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 vai ciao sali 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 vai ognuno ognuno torna 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 eccola eccola brava cristiana vieni vieni cristiana vieni vieni la vai a fare il centro chi vai a fare il centro dai ti va vicino? vieni, vieni, cosi! ora, salta, va! te la fai! te la fai! te la fai rivarci! eh, va, va, va! va, va, va! vai, vai! va, vai, va! ma, va, va, va! rimani lì! però mettiti avanti! dove hai? ma, vieni la piscina! ma, vieni la piscina! e, dai, dissaggi! vieni la piscina! vas-a! Vieni, 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 vieni... Vieni, vieni... È bassa! Bacchia! Bacchia! Quattro mio! Bacchia! Bacchia! si è andata ma stavano a gesto vieni a come affari mettiti a te gesto e vieni a me hai sentito a me va io non so come la cosa di di metto chiudi chiuditi chiuditi mariana come la teca non guarda devi accoppiare vieni a questa a te e ci te e ci va e ci va per lui e sta e ci va dove devi dire qua se ne erano tre mi sto andando a fuoco vieni a lui alzino se si è no ti volevo dire il monolai che è un po' ci siamo a posto il tuo posto è un po' il tuo posto è un po' vai 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 ua 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 ci siamo a e alzino ragazze non è vero ua 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 guardati ua 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 Eh, Gottin! Su, partì, da su! Esci dall'alto! Ehhhhh! Buon appetito! E' il bene! Guarda la spotta! Vai lasciarmi quattro a toio! Ma non c'è un solo un bel cuore! Quattro a toio! Non c'è stato proprio qui! Tu c'entrata che fugga la partiglia! Di serio! Calpello parte di fortuna! E' arrivato uaglione! E' arrivato uaglione! Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.